guarda che bello questo piatto lo puoi scaccare? hai visto che bello? lo puoi scaccare? no hai visto che bello questo piatto? adesso questo piatto ancora facciamo assaggiare il piatto grazie non mi piace te asci se si se si no tu stai scaccare o bello? no allora lo cancebar a sassare 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 a sassare